Siamo a 2659 Sud, Dick Johnny, parto domani, torno mercoledì, ma se riesco faccio qualche live da lì con il cellulare. Ce la farei mai. Se riesco faccio lunedì o martedì, lunedì la faccio alla sera magari. Mentre sei nel bellettuccio, nell'hotel. Eh, Darsin, perché poi molta gente deve andare. Oh, andiamo, lomba. Ti devo mettere il punto? No, no, lo so, lo so. Va, andiamo. Ma perché mi hai preso? Perché di aver cioccato prima? Mi sono fatto fare un headshot da ritardato. Pensavo che avevo... Eh, lo so, ma pensavo che non aveva il cecchino. Pensavo che aveva la R. Fosti stato io e ho già un figlio di puttana, un pezzo delicato. Dunque, è divertente quando arriva la gente e tu cerchi di non insultarla e di fare il gentile, ma in realtà non è così, capito? Momba, anche tu sei una persona di me. E' incredibile come la gente deve essere gentile. La verità è questa, non vedi. No, perché cazzo stai respirando. Guarda se mi facevi headshot, porco giù, da smadonnapo, eh. Sì. Ma forte, sto lomba. Quindi, mi stai dicendo che devo carriere tutto il game mio? Va bene lomba. Fuota la faccia, arrivo. Mi hai po' ta' la faccia, arrivo. Pffp. Fattu. Grazie. 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 Mamma mia, ragazzi. Ti chiedo scusa di essere nato, di essere qua con te, di averti conosciuto, ti chiedo scusa di tutto. Che cazzo è successo, scusa? No, niente. Ti chiedo solo scusa, tutto qua. Vabbè, te l'ho, ma. Wow, ragazzi, che bordello che è successo. Non so come sono uscito da questa situazione in merda. Non so come sono uscito dalla figa di mia madre. Vabbè, quello potevo sapere. Non so quale idraulico ha scelto, mia mamma mia. Mi perdoni, Power? Che cosa? Per cosa? Mi perdoni sì o no? Per essere nato, per averti conosciuto, per essere un figlio della società. L'ho mai non vedo l'ora che tu potrai streamare. Dicembre 2019, broder. Perché io ti farò da manager e lucrerò su di te. No. No, no. Cosa farai? Farai da manager? E lucrerò su di te. Com'è giusto che sia. Va bene. È stato bellissimo quando ho mandato la foto della connessione. Ed è stato scritto RIP Carrier. Ed era una cosa della mia squadra. La connessione della mia squadra. Questo non sa nemmeno come si chiama. Quella sa mettendo le monetine nel conto parcheggio. È visto il colpo di pompa da un'entrato? È visto? No, perché è un gioco fatto bene. Ho sperato il colpo di pompa e gli ha fatto X danno infinito. Danno moltiplicato per i tuoi cromosoma. Danno moltiplicato per infinito. Ma abbiamo. Raga, non lo faccio apposta, ve lo giuro, non lo faccio apposta morire. Cioè, sembra davvero... Ma ne succedono tutti a me. Ho sparato un colpo di pompa e mi si è bloccato il gioco. Eh, ti ha fatto il mini-freeze, ti ha fatto il mini-freeze. Ti giuro, scusami, te lo giuro. Comunque sto rivalutando un botto il TAC. Lo sai? Sparare il primo colpo di pompa e poi finirli con il... Con il TAC è forte come cosa. Non è male. Hai visto che ora hanno ritardato il Livi? Cioè, se il Livi, vabbè. Come esempio me si è ritardato qualcosa di... Sì, è l'omba, sono io. Power... Spiegagli chi è l'omba, per favore. L'omba, ragazzi, è un essere mitologico dal grande piede. E... È un praticamente una... Considerato una divinità, anche se sfortunatamente non è considerato Dio dovuto al suo ritardo mentale. Quindi sfortunatamente non è riuscito ad acquisire l'immortalità. E... È un pochino ritardato come la faccia di questo là, ma qui davanti. L'omba è bello morto. Cosa dice di questo, l'omba? Ah! Ma mi chiedi tranquillo, Simo. Che rebbe? Ah! Cioè, mi scoccia a me chiedertelo tutte le volte. L'omba? Non so se lei ha potuto osservare. Sì, 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 non farmi commentare che poi ti faccio bannare il canale. Così non verrà mai trovato. Eh, infatti. Anzi, così è sì, non me lo bevo. Eh, no, sì, ma c'è, alla fine sono tornata a casa alle 9. Prima di soltanto alle 9 sono tornata a casa. E qui sopra fai danno senza di me. David Zack, io vado a lì, allora, faccio l'informatico e vado a lì, di Sivrea, al bella vista. Camillo, bella vista o li vedi? Ah, ma giusto, ma sono in squad! Che squad? C'è in... vabbè, hai capito, no? Che cazzo... Oh, comete! No, no good. Sto fai danno. Dio, quanto mi stanno sul cazzo quelli che si chiudono così. Senti, mi allancio il razzo e lo prendo, lomba. Amore, fai quello che vuoi. Amore. Lomba, pure il stream deve fare il depressito, lomba è sempre depresso, ragazzi. Ma raga, io mi taglio, faccio da sponsor allora la giletto, ve l'ho già spiegato. Faccio terza, German. Eh, anche il prossimo anno. Hmm... Iveratronic? No, non so che... Non voglio che nessuno trovi questo tesoro. Allora, hanno chiesto in chat con... Eh... Ma tra lomba e Paolo, chi si avvicina più a essere un god? Bella domanda. Bella domanda. Chi ha fatto una scorreggia, ho bucato la sedia, ma come cazzo è così? Eh, vabbè, cazzo era radioattiva. Te lo giuro. Radio active! Radio active! Lomba, quanto mi paghi se vinco sto game? Minchia... Giuro, ti faccio provare le mie scarpe. Oh, oh, oh. Radio active! Me, quiero in un'altra vista. Eh? Eh, fortino, ragazzi. Ma con cosa mi ha colpito, vorrei capire. Ah, non voglio manco di sparare. Ah, una mi sta pushando, però. Ma, what the? Aspetta un secondo, aspetta un secondo, se io ne ho ammazzati ora due, che cazzo sono quelli sopra? Fermo un secondo! Fermo un secondo! Sembrano quei problemi che ti danno nelle mentali Se ho due mele e la mamma ha comprato quattro pele, vere, scusami Quanto misura la massa del sole? Esattamente l'omba, quanto misura la massa del sole? Non so, devo sapere quanti cromosomi ha... Sicilia Ho conosciuto Power perché abbiamo cominciato a giocare nello stesso team di PUBG competitivamente Vaffanculo, va! Che sito di merda! Eh? Come fai a costruire con poi? Qua te lo spiego Qua te lo spiego Eh, questo hit era un bacetto, era tipo... Vabbè Germani mi stai trollando tipo... Ma, ti pare che mi prendi dal muro? Ciccatissima! Schiccatissima! C'è lì dietro bro Sì lo so Bravo Sento che ti prende il bomba e ti shot Sì 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 vediamo se vuoi provare secondo me c'è gente lì davanti no stanno costruendo lato a destra sinistra lì in fondo non ai gradi non so come dire tra un po più a destra in fondo ecco lì ma vabbè incazzata è l'altra la mia sinistra con i cerchini proprio pietà per loro nazionalità talebana porca puttana troia ok mi ha spaventato lui eh giuro che mi sono spaventato lomba mi sono rotto un pochino il cazzo di prendere casse e roba varia ma che dici oh no merda ma ma vabbè volevo fare il figo col pompa ma niente si va per le 22 kg in onore di paolo cannone let's go boys ciao ciao